Ci sarà una sorpresa in Passaporto Storie di Vercellesi nel mondo e la sorpresa si chiama Ombretta Piantavigna. No, buongiorno innanzitutto, non sono io la sorpresa, io sono il tramite perché attraverso me conoscerete quattro ragazzi che hanno trascorso esperienze molto interessanti di studio all'estero. La trasmissione verrà comunque spezzata in due parti perché è necessario arrivare anche a questa determinazione di restare nei tempi. Certo Giovanni, conosceremo attraverso il particolare punto di vista di questi ragazzi il Cile, il Messico, la Thailandia e la Danimarca. Un'esperienza completa, avvolgente per quattro giovani che hanno lasciato Vercelli e tutto quello che per loro rappresenta, e Santiana è il caso di una di questi ragazzi, per immergersi in una nuova realtà completamente diversa.